Bella, abbiamo la sorpresa di Pasqua, abbiamo la sorpresa di Pasqua, ho trovato una cosa che forse ti piace, ho trovato, guarda, guarda, la colomba, la colomba, guarda mamma, buona Pasqua, guarda, guarda, la colomba, apriamo? Colomba, 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 la colomba di Pasqua, sigillata, sigillata, aspetta, bella, profuma proprio di buo, ecco qua, non è male ragazzi, per essere fatta in Giappone, non è male, questo è per te a papà, ecco, vedi, mangia, mangia, e assaggiamo, mamma è anche buona, non è mangio una da tanti anni, ha un buon lavoro, tagliato, vai, mangia, mangia, i canditi prima, ok, non c'è mangio tutto ense contento E' un po' un po' un pochetto Podiamo aprirlo senza di si indegarato Ah, è vero Ok, ok Sei un po' tre anni, dimenticato Nani? 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 Chocolata Nani? Cosa è? Toccolata? Cosa? 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 Ah! Cosa! 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 Quanto ha fatto? Cosa cosa? Cosa! Cosa cosa? Grazie a tutti!